Un nuovo caso di positività al Covid-19 è registrato oggi nella nostra regione e localizzato in provincia di Pescara. Questo è il risponso dopo i 965 test analizzati nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Il computo complessivo dall'inizio dell'emergenza dunque sale a 3.335 persone che hanno contratto il coronavirus, ma la buona notizia è che non si registrano nuovi decessi che rimangono fermi a quota 468. Le persone attualmente ricoverate sono 15, in diminuzione di due unità rispetto alla giornata di ieri, mentre non si registrano nuovi ingressi in terapia intensiva. In Abruzzo infatti già da giorni non ci sono pazienti ricoverati in intensiva, mentre sono 102 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Gli attualmente positivi nella nostra regione, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti sono 117, con una diminuzione di due unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 118.745 test. Del totale dei casi positivi 244 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 828 in provincia di Chieti, 1600 cifra tonda in provincia di Pescara, più uno rispetto a ieri, 635 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per due casi non è indicata nella provenienza.